a tutti gli utenti signori e signore siamo qui al webinar trada in modo professionale con mql suite assieme a costantino di top epix e fabio la rosa di mql suite io darei subito la parola a costantino che ha qualcosa da dirci ciao costantino ciao alex grazie grazie dell'invito un piacere essere con voi questa sera faccio subito relatore così mostri qualcosina ai nostri utenti iscritti benissimo riuscite a vedere le mie slide sì perfetto perfetto allora chi non mi conosce io mi chiamo costantino zenono si sono il referente italiano del broker top fx prima però di fare una breve breve brevissima presentazione del broker vediamo la leggiamo l'avvertenza sui rischi allora questo materiale è considerato una comunicazione di marketing che non contiene non deve essere interpretato come consulenza sugli investimenti o una raccomandazione di investimento o un'offerta o sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari allora top fx è il broker il broker dei broker come l'ho soprannominato perché perché top fx non è un semplice broker top fx è un prime broker un prime broker è fornitore di liquidità tra i pochi prime broker che permette anche ai clienti al dettaglio di operare di solito i broker si affidano a dei prime broker che gli forniscono la liquidità cioè gli strumenti finanziari e i prezzi che vedete in piattaforma dunque i prime broker ricevono il volume dei trade dei clienti dei broker noi permettiamo anche ai clienti al dettaglio di tradare con noi questo dà dei vantaggi importanti in termini di costi operativi ridotti e di qualità di esecuzione e profondità di liquidità siamo nati nel 2010 abbiamo compito dieci anni di storia la nostra sede principale si trova in cipro a limasol il più importante centro forex a livello mondiale siamo regolamentati dalla sisec e siamo di conseguenza autorizzati ad operare e registrati presso tutte le autorità di regolamentazione europee tra cui ovviamente la consob e l'fca i fondi dei nostri clienti sono tenuti in conti segregati cioè al di fuori del bilancio societario presso una delle principali banche a livello mondiale la barclays bank di londra offriamo ovviamente la protezione del saldo negativo su tutti i conti che tenete in top fx partecipiamo al fondo di compensazione per gli investitori un'ulteriore misura a vostra tutela come spiegato siccome non siamo semplici e broker tra i nostri clienti trovate anche clienti più voluminosi cioè istituzioni finanziarie banche broker fondi clienti istituzionali i servizi che offriamo ai clienti istituzionali sono principalmente due allora dovete sapere che top fx fa parte di un grande gruppo di aziende a capo del quale c'è spotware società che produce la piattaforma c trader ecco il perché della nostra del nostro primo servizio la soluzione tutto in uno nata da una partnership esclusiva con spotware attraverso la quale offriamo la loro piattaforma con la nostra liquidità in alternativa il secondo servizio che offriamo è semplicemente la nostra liquidità multi asset che si può agganciare a qualunque piattaforma attraverso un semplice fix up andiamo a vedere le condizioni per i clienti al dettaglio quelle che principalmente vi interessano offriamo due piattaforme la meta trader 4 e la c trader sette classi di asset azioni forex metalli energie indici etf criptovalute il numero di strumenti finanziari supera i mille i nostri spessori interbancari da 0,0 pips probabilmente i più bassi sul settore essendo questo il nostro business principale e utilizzando una tecnologia sofisticata di aggregazione che ci consente di offrire sempre a voi il miglior prezzo bda disponibile sul mercato le commissioni sono ridotte pari a 5,5 euro l'otto round trip su forex metalli ed energie non ci sono costi di commissione invece sulle altre classi di asset abbiamo una particolarità i micro lotti sugli indici lo 0,01 pari a un centesimo appunto parliamo ovviamente di cf di cash senza scadenza la nostra esecuzione ultra veloce a mercato non ci appoggiamo a fornitori di liquidità bensì a direttamente istituzioni finanziarie non prevediamo un deposito minimo depositi e prelievi sono gratuiti e abbiamo supporto italiano sempre presente andiamo a vedere la cosa che diversifica principalmente top fx dagli altri broker ci sono parecchi broker che offrono condizioni molto competitive la cosa che ci diversifica come azienda che da sempre abbiamo deciso di investire le nostre risorse di marketing non tanto su magari siti trafficati oppure lo sport tipo calcio formula 1 eccetera eccetera ma nel problema principale di questo settore la carenza di educazione finanziaria è un dato statistico dimostrato presente sul sito di tutti broker regolamentati che una media dell'ottanta 85 per cento dei clienti che perde denaro per questo top fx ha accuratamente scelto i propri partner partner che possano dar dei servizi i quali possano dar dei vantaggi ai nostri clienti per ridurre tale percentuale di trader perdenti perché noi non vogliamo i nostri clienti che perdono denaro questo avrete sentito da molti broker ma sono pochi a dimostrarlo con i fatti dunque principale nostra principale nostro partner m quelle suite che ci presenterà dopo il proprio prodotto che una serie di tools e di indicatori professionali per mt4 e c trader che vi permetteranno di tradare in modo professionale semplice ed efficace altra partnership che abbiamo dall'anno scorso trading room roma un'importante scuola di formazione in italia fondata nel 2005 di questi nostri partner offriamo ovviamente gratis dei servizi ai nostri clienti abbiamo un corso formativo online tre sere a settimana da trading gestito da trading room roma il lunedì il mercoledì il venerdì dalle 20 alle 21 quotidianamente dal lunedì al venerdì abbiamo due sedute di live trading room dalle 9 alle 10 dalle 19 alle 20 e infine offriamo gli strumenti di m quelle suite gratis ai nostri clienti insieme agli altri due servizi dunque clienti top fx possono beneficiare gratuitamente di tutti questi servizi davvero vantaggiosi vi lascio i miei contatti per chi volesse magari contattarmi per avere maggiori informazioni o provare una demo senza impegno il mio contatto email czz9 schiocciolatopfx.com il mio contatto skype telegram e il mio numero personale prima di concludere vi invito a seguirci sui social soprattutto sul nostro canale telegram che conta oltre 1400 iscritti un canale ricco di analisi contenuti articoli video report quotidiani e poca pubblicità la nostra pagina facebook top fx italia molto attiva il nostro canale youtube top fx italia dove trovate numerosi webinar che teniamo settimanalmente in questo periodo quotidianamente con noti esperti del settore webinar sempre gratuiti ed aperti a tutti vi ringrazio per la vostra attenzione grazie alex bene grazie costantino allora io direi di andare a dare la parola direttamente all'interessato di m quelle suite fabio la rosa le do lo schermo innanzitutto ti saluto ciao fabio e direi subito chi è fabio la rosa presentati un po ai nostri utenti allora buonasera buonasera a tutti allora andiamo subito col mostrare lo schermo chi è fabio la rosa è una bella domanda alex è una bella domanda allora sono sono un appassionato di mercati finanziari un appassionato di trading online ormai sono quasi dieci anni che mi occupo diciamo così che che il trading è diventata la mia attività principale e ho iniziato anch'io un po come tutti con le varie piattaforme con i vari giocattolini che ci sono in giro per poi piano 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 affinare questa competenza questa professionalità questa conoscenza questa passione e appunto oggi come oggi posso dire che il trading è la mia è la mia non solo vita ma è anche nella forma principale ok di sostentamento che fortunatamente riesce riesce a sostenere quella che è la mia vivibilità ecco fabio vedo che nella suite ci sono tanti tool no cioè come sono come sono nati tutti questi tool oppure anche principalmente la suite è solo per trader esperti mi viene in mente oppure è anche usata pure dai neofiti allora la suite è nata circa quattro anni fa è nata fondamentalmente con l'intenzione di essere il mio strumento operativo ovvero inizialmente è nata un po come come l'insieme delle mie idee io provengo la mia esperienza si è diciamo così piano piano è voluta grazie all'utilizzo di piattaforme professionali una fra tutte i signal advanced get che è stata la mia prima piattaforma professionale la mia mia la mia prima piattaforma che ho acquistato perché mi ricordo e ricordo ancora questa è una cosa che dico sempre però è stata una piattaforma che dopo un anno di operatività decisi di acquistare al costo di 5.150 dollari ho ancora la fattura di quella piattaforma perché non lo dimenticherò mai perché capite che dopo un anno di operatività di trading eccetera andare a fare un acquisto di quel tipo un acquisto importante perché 5.000 dollari signori sono cioè come comprare una macchina quasi per me per me fu una una cosa davvero che poi fondamentalmente ha cambiato quella che è stata poi la mia il mio processo di crescita la mia evoluzione ovviamente grazie a quello strumento ho avuto la possibilità di formarmi più velocemente quindi di venire a conoscenza di logiche più professionali rispetto a quelle che c'erano in giro con la classica piattaforma eccetera eccetera io ho avuto modo appunto di lavorare con diverse piattaforme professionali una fra le ultime quella di reuters eccetera sono un appassionato di tecnologia quindi mi piace conoscere mi piace scoprire e poi giustamente avendo determinate esigenze avendo trovato in meta trader una piattaforma flessibile che mi potesse permettere di mettere giù tutte quelle che erano le mie idee le mie esigenze eccetera ecco che il gioco fu presto fatto diciamo così siamo riusciti ad inserire all'interno di meta trader quello che è stato un po il mio percorso di crescita quindi un po tutta la mia esperienza e appunto le mie conoscenze perché poi tutti i profili che sono all'interno di meta trader altro non sono che modelli di analisi dati dalla mia esperienza dal mio percorso dalla ecco infatti fabio guardando appunto tutti i profili no ne vedo che ci sono circa 50 50 ecco esatto un trader o esperto barra neofita può orientarsi in questi 50 profili che sono tanti sono diversificati com'è che può utilizzarli anche mi viene in mente contemporaneamente possiamo lavorare soltanto con un profilo in sostanza qual è il vantaggio che offre al trader ok allora alex intanto appunto siccome ci sono tantissimi profili appunto sono sono più di 50 abbiamo pensato di creare una sorta di guida interattiva dentro meta trader siamo fra i pochi ad aver usato diciamo così determinate funzioni avanzate di meta trader che in pochi sconoscono ovvero come la possibilità all'interno della piattaforma come vedi siamo dentro meta trader di cliccare e aprire un link di youtube ok abbiamo la possibilità di cliccare e andare direttamente su youtube e quindi noi forti diciamo così di avere questa funzione interattiva abbiamo iniziato a generare tutta una serie di tutorial che servono per conoscere la piattaforma per capire il vario utilizzo di fatti come vedi nella nel profilo guida introduttiva c'è la guida introduttiva il tutorial per il data load che permette di andare a scaricare tutti i dati della piattaforma il tutorial del modulo utility vedi qui così c'è un modulo che comprende tutte le funzioni di utilità di m quelle suite poi tutorial sulla sezione analisi che è questa tutorial sulla sezione trading che è questa qui e così via quindi c'è tutto e sì tanta roba e sia una piattaforma che all'inizio può tutti questi profili possono spaventare però ci sono tutte le guide necessarie e utili al corretto funzionamento di m quelle suite non solo ok ma all'interno come vedete c'è una categoria 0 0 9 ma quelle suite trading academy abbiamo inserito anche un corso di trading perché perché sappiamo bene che spesso e volentieri appunto c'è si necessita di formazione e la formazione a volte diciamo così in giro la si trova un po a caro prezzo questo con noi non accade perché noi all'interno di m quelle suite abbiamo inserito un corso gratuito quindi tutti i possessori di m quelle suite hanno anche accesso a quello che è il corso base che è questo infatti guardate tutte le lezioni che sono contenute nel corso base ok il corso intermedio che è questo qui e qui ci sono tutte le lezioni del corso intermedio e il corso avanzato quindi come vedi ci siamo concentrati sul sul far conoscere il prodotto e far conoscere le logiche con cui analizziamo il mercato che possono darci un vantaggio cercando di sfruttare il prodotto al meglio questo per noi è molto importante di fatti noi settimanalmente tutte le settimane abbiamo un incontro chiamato help desk che tutti i venerdì alle ore 18 se non sbaglio 18 e 30 vedete qui c'è anche il link ci porta direttamente vedete anche questo link porta direttamente al nostro gruppo facebook in cui facciamo la diretta settimanale eccetera eccetera ecco infatti fammi anche spendere due parole per a per te fabio perché devono sapere gli utenti che anche io comunque mi sono messo con la suite perché la trovo veramente utile oltre questi 50 profili mi sono fatto un profilo che mi ha ancora il tuo profilo guarda numero 48 l'ho chiamato proprio le fonti questo è il tuo quello che abbiamo realizzato appunto per alex quando quando faceva le dirette le fonti perché alex ci aveva chiesto dici un profilo che potesse essere utile per aiutarlo in trasmissione aiutarlo ad avere dei riferimenti ecco il proprio la la flessibilità non qui mi trovavo nelle situazioni anche di estrema volatilità o di congestione e avevo proprio questo profilo qua guarda magari dai due parole su su questo profilo che è un profilo proprietario così come quello che io mi trovo da dio che dei rendimenti percentuali sì 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 questo è abbastanza semplice come vedete qui sopra abbiamo intanto un'informazione un'informazione di delta se così si può dire anche se abbiamo un pochettino rubato questo termine non è proprio il delta del volume quello che in genere si associa a questa parola ma è il delta della pressione del movimento come vedete qui abbiamo una prima informazione poi abbiamo dei livelli stampati sul grafico che sono semplicemente il massimo il prezzo di apertura della sessione il prezzo di chiusura il prezzo di apertura il minimo della sessione precedente questi sono ovviamente i livelli chiave che si vanno ad analizzare sulla giornata per capire diciamo così un po' l'atteggiamento del mercato poi qui sulla destra come vedete abbiamo lo strumento in questione il prezzo attuale il valore percentuale quindi la performance che lo strumento sta generando e poi quelli che secondo noi sono i prezzi importanti come vedete i prezzi sono stampati in maniera molto evidente perché appunto alex in trasmissione aveva bisogno di nominare alcuni prezzi allora ecco che la graficazione l'abbiamo fatta in questo modo qui come vedete c'è il prezzo medio ovvero la media giornaliera qui c'è il prezzo del pivo giornaliero il prezzo della close precedente il massimo precedente il minimo precedente e il poch che alex appunto gradisce molto di fatti appunto questi sono i prezzi più importanti della giornata che fabio la rosa è mister mt4 perché perché lui crea i profili in questa switch ci sono qualsiasi tipo di profilo che un esperto un retail un medio può orientarsi al mercato ecco magari fa vedere anche quello carino sui rendimenti percentuali proprio un tuo studio proprietario che è veramente qui anche anche qui comunque alex ci sono i rendimenti vabbè tu lo sai però come vedete accanto a questa pulsantiera che ci permette di navigare e di muoverci all'interno di tutto quello che è il mercato come vedete sopra abbiamo il valutario sotto abbiamo indici sotto ancora le commodity ok c'è un numerino questo numerino ci dà l'idea di prossimità da quello che è il minimo o il massimo attuale di giornata per cui già vedete osservando la colorazione di questa pulsantiera sappiamo che chf yen si trova in prossimità dei minimi euro audi pure perché perché sono un rosso forte quindi quegli strumenti che hanno una colorazione rosso forte vuol dire che sono vicino ai minimi gli strumenti che invece hanno una colorazione di verde forte e invece sono strumenti prossimi ai massimi poi ovviamente c'è il colore intermedio che è l'arancio il verde chiaro che questo è un leggero segno di forza o leggero segno di debolezza per cui già osservando semplicemente la pulsantiera noi abbiamo un'idea ben precisa di quelli che sono i mercati in trend quelli che sono i mercati vicino ai minimi vicino ai massimi ed è lì che si fa il mercato ecco andiamo però a vedere quello delle percentuali che mi dicevi questo sicuramente il nostro cavallo di battaglia perché perché noi riteniamo che l'analisi percentuale ovvero l'analisi del valore il valore del mercato sia assolutamente più importante di quella che è l'analisi algoritmica di quella che è l'analisi statistica di quella che l'analisi c'è ci sono diversi modelli di analisi che permettono di analizzare il mercato che permettono di creare un'idea ok ma secondo noi analisi percentuale ovvero l'analisi del momentum è in assoluto l'analisi principe che riesce a darci l'idea di quello che sta facendo il mercato quindi il momentum e di quelli che potrebbero essere gli eventuali possibili sviluppi certo infatti da qui mi spieghi cosa c'è per te se io ti dico cos'è un trend me lo definisci guardando questo profilo allora cos'è un trend ragazzi cos'è un trend intanto facciamo una cosa togliamo il riferimento h1 e h4 ok giusto per avere un'informazione un pochettino più semplice più allora h4 lo mettiamo false e h1 lo mettiamo false quindi sulle valute ok lo facciamo anche sugli indici e le commodity e come vedete cominciano a spuntare fuori vedete le scrittine i nomi dei degli strumenti cominciano a sbucare fuori di colore verde o rosso ok già questa è una condizione che mi aiuta ecco così molto ecco gli indici perché perché in quel modo è più semplice per me avendo tanti strumenti a disposizione da analizzare io poi ho cercato di semplificare al massimo l'utilizzo della piattaforma l'utilizzo informativo perché avendo tanti strumenti da tenere sotto controllo ho cercato di sfruttare la potenza del calcolo algoritmico per semplificarmi la vita cos'è il trend come facciamo ad identificare il trend qualcuno usa le trend line qualcuno usa le medie qualcuno usa l'analisi mistica qualcuno usa ognuno ha il suo modo non stiamo a dire che questo sia il migliore questo è il migliore secondo noi ovviamente come dicono a napoli ogni scarrafone è bella mamma sua ok però io vi porterò la chicca delle 20 e 21 di io vi porterò ad avere una ragione ben precisa per cui possiamo dire che questo strumento è in trend rialzista o in trend rialzista perché perché analizziamo quello che è il valore ok come vedete qui ci sono delle colonne questa è la colonna di rendimento annuale early questa è la colonna di rendimento semestrale trimestrale mensile settimanale e giornaliero quindi facciamo un'analisi ben precisa analizziamo il rendimento annuale semestrale trimestrale mensile settimanale giornaliero facciamo un'analisi frattale che va dall'annuale al giornaliero come vedete euro dollaro è di colore rosso quindi ciò significa che euro dollaro è in trend ribassista perché è in trend ribassista non dobbiamo lavorare in modo troppo soggettivo ok o discrezionale abbiamo dei dati precisi che ci portano a vedere che euro dollaro è in trend ribassista ovvero i rendimenti perché perché su base annua perde il 3 e 5 per cento il semestre che ancora siamo all'interno del primo semestre è correlato all'annuale hanno lo stesso identico valore ok il valore del semestre cambierà dal secondo semestre in poi per cui è lo stesso quindi anche qui perde il 3.5 per cento su base trimestrale perde l'1.9 su base mensile perde l'1.9 su base settimanale perde lo 0 5 su base giornaliero perde lo 0 3 addirittura con un colore rosso forte perché perché la giornata di oggi si trova sotto i minimi della giornata precedente quando ci troviamo in una condizione di breakout ecco che i colori vanno in accento ovvero di verde diventano verde scuro che sta a significare un breakout ribassista e rosso scuro che sta a significare un breakout ribassista quindi non solo abbiamo l'informazione di rendimento da questa dashboard ma abbiamo anche l'informazione di price action la rottura del minimo la rottura del massimo eccetera e in più guardate cliccando io vado ad aprire il grafico di riferimento in questo caso euro dollaro con i livelli perché il nostro il nostro colpo di genio più grande è stato quello di graficare i livelli percentuali cosa che nessuno aveva mai fatto su metatrader noi abbiamo graficato i livelli di rendimento percentuale e questo in verità ci ha aperto un mondo perché ci siamo accorti dell'importanza di questi livelli di prezzo sul grafico è un po come come vedete graficamente è un po una logica simile a quella di pivò ma credetemi la reazione che il mercato ha su questi livelli non è assolutamente come quella di pivò è molto più efficiente perché perché il mercato usa si usa questi punti come dei porti come dei punti di carico e scarico perché perché sull'uno per cento chi è che non prende profitto se il mercato arriva a fare un 1 per cento un 2 per cento un 3 per cento chi è che non prende profitto su questi punti è un po come andare a parlare di numeri tondi solo che qui si parla di livello di rendimento che è importante fabbio fammi dire una una cosa al volo prima che mi scordo importante chi fa il mercato comunque chi muove il prezzo guarda effettivamente il rendimento cioè se noi andiamo a giornalmente ci sarà qualcuno che dirà dobbiamo fare tot x effettivamente questo rendimento è un rendimento concreto numero che effettivamente viene visualizzato e non si parla di numeri concreti quindi non magari cose che per me possono essere x per fabio possa essere y si parla di oggettività e non soggettività e l'oggettività nel trading è la parte fondamentale per essere profittevoli poi assolutamente adesso ti apro per un attimo e signal ok e mi faccio vedere quello che osservo io e osservano anche gli altri appunto sempre parlando di rendimenti vi faccio vedere un secondo la piattaforma e signale che è questa oltretutto non la vendono più per questa piattaforma ci vogliono 350 dollari al mese non è più in vendita i signali sono stato forse uno degli ultimi a comprare questa piattaforma perché 5 mila dollari siamo stati in pochi a comprarla ok lo ribadisci diciamo che no diciamo che dopo aver scoperto meta trader è quello che si poteva fare su meta trader mi sono un pochettino mangiato le mani perché dicevo cavolo con 5 mila dollari ma sai quanti indicatori che però giustamente qualche errore di gioventù ok ero anche abbastanza impaziente perché giustamente con questo strumento mi aspettavo di avere determinati risultati che per carità poi sono arrivati ma non subito esattamente come volevo io vedete guardate qui un pochettino a milano si dice il ganasta no volevi prendere dire adesso faccio jordan belford e mi consente la borghini 5 mila dollari alla fine era un costo che avevo preventivato perché ho detto se questa deve diventare la mia attività come giusto che sia devo investire dotandomi di quelli che sono gli strumenti che mi permetteranno di fare di questa mia passione una professione per cui guardate questo è il dax ok questo il futures questo è l'indice e questi sono tutti i sottostanti relativi al dax vedete queste adidas queste allianz ok la bass bmw vedete qual è la cosa più importante che dobbiamo osservare è proprio questa colonna qui il change il rendimento oggi il dax che cosa ha fatto tutto l'indice vedete le informazioni che dobbiamo andare a cercare poi per carità ho visto traders che si complicano la vita analisi stagionali analisi econometriche analisi mamma mia ho visto di quelle cose io preferisco non dico che non funzionino quelle cose attenzione sto dicendo che io preferisco concentrarmi su quelli che sono i dati reali quindi il momento ma la condizione la quello che sta facendo il mercato non quello che ha fatto e che potrebbe fare no io sono un trader diverso e così facendo giustamente poi ho preso spunto per andare a costruire all'interno di meta trader quelli che sono gli strumenti che secondo me possono essere più efficaci e più efficaci posso spendere una parola su questo fabio io veramente faccio ammenda e proprio ammetto che io sono sui grafici ho quasi 31 anni sono sui grafici da quando ho 23 anni quindi un paio d'anni e da quando ho conosciuto fabio la rosa e lo dico veramente mi ha cambiato il modo di tradare perché 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 mi ha insegnato a innanzitutto non fare il fenomeno in certi leverage e mi ha insegnato i punti buoni e l'approccio a essere alla fine del mese positivo nel mio conto real e non è roba da poco quindi è anche un fabio te lo dico davanti a tutti un gran formatore perché tanto di cappello per quello che hai fatto perché almeno a me mi ha insegnato una relazione grazie alla fine alla fine piano piano o impari oppure esci fuori dai giochi nel senso questo è un lavoro diciamo così abbastanza meritocratico nel senso se impari quelle che sono le regole ok puoi stare all'interno di questo mercato che un mercato molto difficile ok anche pur avendo raggiunto un livello di diciamo così abilità di un certo tipo a volte si 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 fatica comunque con i mercati perché perché spesso e volentieri ci dobbiamo confrontare con quella che è la nostra aspettativa ovvero facendo riferimento a questo chi è che l'altro giorno non ha comprato il petrolio vedendolo a due vedendolo a tre chi che non è scattato quella cosa di dire cavolo se questo è un prezzo buono cavolo se questo è conveniente a volte poi ci litighiamo anche io col petrolio qualche qualche loss ce l'ho lasciato perché giustamente vedendo il petrolio a quei prezzi bassi chi si aspettava che sarebbe sceso addirittura a meno 40 toccato un minimo 40 dollari è impensabile poi alcune cose diciamo così fanno parte del percorso di crescita perché anche quelli bravi sbagliano ok non siamo immuni all'errore oppure l'atto di testardagini oppure alla svista oppure al diciamo così al più classico e blando no voglio avere ragione sul mercato allora non chiudo ci stanno ci stanno anche quelle cose li fanno parte del gioco la cosa importante però è comunque avere fondamentalmente quella che è la visione principale del tutto ecco proprio per andare anche a una domanda voglio farti una domanda un po così a brucia pelo ecco ma perché io devo c'è un trader deve scegliere m quelle suite allora alex perché m quelle suite è sicuramente uno strumento che può migliorare le performance dei trader perché perché li porta a conoscenza di quelle che sono le condizioni di mercato con m quelle suite tutti i nuovi con un click ok a te basta un click ad esempio per cambiare tutti i grafici ok un po come alcune piattaforme ce l'hanno questa cosa pro real time e signal moti wave è qui però l'abbiamo semplificata e abbiamo velocizzato questo tipo di analisi di informazione quindi abbiamo uno strumento performante ok abbiamo uno strumento che non ha nulla da invidiare ai signal a molti charts eccetera cioè adesso metatrader grazie m quelle suite è diventato una piattaforma professionale che permette un'analisi professionale che permette svariati tipi di analisi che offre strumenti che danno una gestione del trade professionale come tutti gli indicatori e gli script che ci sono all'interno per la gestione delle posizioni chiudi tutto chiudi solo i buy chiudi solo i sell chiudi tutti i buy tutti i sell chiudi tutti gli ordini chiudi solo quelli in profitto solo con ci abbiamo semplificato moltissimo tutta l'esperienza ok di operativa sulla meta trader che prima non c'era così o soprattutto non c'era così organizzata magari se andate online e trovate qualche script che c'è in giro ma non è così organizzata così accessibile completa e funzionale come su m quelle suite ecco ma occorre pagare per avere la suite poi bisogna dare qualcosa o meno no m quelle suite è assolutamente gratuita noi abbiamo praticamente con costantino abbiamo una partnership per cui praticamente i clienti di costantino possono avere quelle suite gratuitamente senza pagare non non ha nessun costo m quelle suite ovviamente bisogna essere clienti di costantino ma un broker bisogna pure averlo cioè se vuoi tradare devi devi appoggiarti a qualcuno ecco il discorso appunto di molti trader sono molti che si approcciano a questo io mi sento di dire uno dei più difficili lavori al mondo perché ci sono tanti se non forse più difficile sono tanti vincoli c'è anche la nostra psiche c'è anche combattiamo con noi stessi combattiamo con la nostra col nostro ego e il training è spettacolare da tanti punti di vista ma è anche molta formazione a proposito di formazione e mostrerai diciamo soltanto ti dico un po i segreti nascosti della suite o parlerai anche di altro allora sì in effetti in effetti con costantino appunto abbiamo deciso di dare il via a questo corso che praticamente sarebbe il campo d'addestramento bootcamp di m quelle suite per cercare di di innanzitutto far comprendere bene questo strumento perché è importante conoscere bene me con le suite appunto come hai detto bene a volte la disciplina eccetera tornando un attimino su quello io ho fatto costruire guarda guarda questi expert drawdown control close utility addirittura ho fatto costruire degli expert che una volta raggiunta aspetta è questo person drawdown control una volta raggiunta una determinata percentuale di perdita perché lo sappiamo benissimo che trader litigano con le perdite ok addirittura si chiude la piattaforma qui c'è una funzione se io metto 2 per cento se dico al 2 per cento fermati ok e attivo questa funzione chiudi piattaforma una volta raggiunto il 2 per cento si chiude la piattaforma e non si apre più questo questo diciamo questo algoritmo perché lui era abituato alle bacchettate sulle mani e quindi ha detto abituata le bacchettate questo è un po più soft ma diciamo che qui si chiude la piattaforma praticamente si blocca il conto se non riuscite ad essere disciplinati con m con le suite potete imparare a diventare disciplinati ovvio si fa bene a dire si fa più facile a dire che a fare fra dire il fare c'è di mezzo il mare però vedete l'utilità proprio dm quelle suite ci sono all'interno un sacco di strumenti un sacco di cose e siccome sono tante ecco che prendo la schermata prende lo slide ok appunto abbiamo deciso di fare questo incontro queste 20 lezioni che avranno praticamente il compito di spiegare bene quelle suite spiegare bene i principi fondamentali del funzionamento spiegare bene gli indicatori gli script expert advisor per far sì che i trader possano utilizzare al meglio questo strumento ok che è è diventato di fondamentale importanza per chi fa trading in modo professionale ok perché perché dentro c'è tutto quello che può servire ad un trader professionista o tale quale perché perché la piattaforma che utilizzo io perché perché senza m quelle suite ormai non riuscirei a muovere più un passo perché perché me quelle suite è diventata davvero importante nel cercare di andare alla ricerca delle opportunità guardate qui euro audi in questo momento perde lo 0 99 per cento quindi siamo prossimi all 1 per cento guardate il mercato nella giornata di oggi guardate questo primo touch dell'un per cento boom secondo touch dell'un per cento boom terzo touch dell'un per cento stavolta mi sa che vanno giù ma quanto era importante quanto è stato importante questo livello oggi e io questo livello ce l'ho da mezzanotte quindi vedete con gli strumenti giusti innanzitutto è più semplice capire il mercato che è la prima cosa fondamentale di base ma in secondo luogo è più facile andare alla ricerca delle opportunità ok perché se lavorate con gli strumenti giusti credetemi avere opportunità risulta essere più semplice non dico che sarà facile che tutti diventiamo ricchi ok ma avere opportunità avere un'idea precisa sul mercato sul comportamento eccetera risulterà essere più semplice in particolar modo bisogna bisogna sempre diciamo andare andare nella direzione giusta è sempre un po soggettivo però con questi strumenti effettivamente se io sono in caso di specie o dice hf ecco un caso magari ogni per il livello importante qual è stato guarda per cento da qui è ritornato giù di nuovo un per cento poi 0 5 che sarebbe la metà il 50 per cento e poi di nuovo su con degli strumenti validi vale veramente tanto perché sono possiamo anche di dire agli utenti che si può far vedere anche all'indietro come hanno funzionato quindi adesso c'è questo qua e magari oggi ha funzionato guardate fabio ha inserito questo aspetto non cambia non è ripenti in sicily verniciatura quindi io mi sono anche inserire un numero infinito di analisi storiche ok così da capire quelli che sono i livelli importanti così da capire come funzionano questi livelli quali sono i punti di reazione che in genere il mercato o questo mercato questo preciso strumento sente ecco l'analisi storica statistica poi è abbastanza importante di infatti tutti i nostri studi danno la possibilità di fare analisi storica analisi statistica perché perché è importante poi andare a vedere quelli che sono i punti più interessanti ecco infatti ascoltami volevo anche chiederti riguardo anche a chi parteciperà al corso di top fix no praticamente riceverà una formazione completa sul progetto sul corretto approccio del mercato ma tu diciamo diciamo diciamolo fuori dai denti sei quella quelli che danno soltanto qualche indicatore qualche indicazione sommario oppure condividi appieno le tue idee le tue conoscenze con chi ti segue allora alex io vorrei se c'è qualcuno che mi conosce può lasciare un messaggio gentilmente in qui sul webinar se c'è qualcuno se c'è qualcuno dei miei nel senso gradirei non mi sa no no fondamentalmente alex abbiamo sempre lavorato in un certo modo nel senso come offriamo anche la formazione gratuitamente non facciamo speculazione sulle persone offrendo tutti questi strumenti gratuitamente perché signal si può permettere di vendere la loro di noleggiare la loro piattaforma a 350 euro al mese è bruciato veramente ai signala l'abbiamo capito nel senso come mai loro possono cosa quella piattaforma che non abbiamo noi in realtà niente è semplicemente il diciamo così l'approccio nel senso noi non vogliamo fare speculazione sulle persone tant'è che la diamo gratis tant'è che la diamo gratis quindi anche sulla formazione ovvio che ci sono dei piccoli segreti delle piccole finezze che provengono dall'esperienza soprattutto dall'esperienza dal fatto di stare sui grafici 8 ore al giorno ormai sono quasi dieci anni quindi del tempo piano piano abbiamo affinato delle competenze eccetera però sicuramente ok questo bootcamp è un ottimo punto di partenza per iniziare a mettere le mani ok nel posto giusto trovarsi appunto nel posto giusto al momento giusto dovete dove allora dovete sapere parlo momento agli utenti che fabio a volte mi scrive alla domenica alle tre no al sabato alle 13 ci sei per un'analisi di mercato quindi la passione passione nel senso io io addirittura ho anche degli orari abbastanza strani di notte alle due alle tre così perché poi la sera c'è più tranquillità c'è più serenità quindi quindi siamo così si studia meglio soprattutto per me che sono diciamo così la parte creativa di quelle suite sono colui che definisce quelli che sono gli studi da far fare ai programmatori quelli che sono un po gli algoritmi i calcoli le analisi quindi per me per me è importante mantenere sempre un certo tipo di attività bene bene ecco magari volevo anche chiedere non so possiamo fare al volo un'analisi su qualcosa così possiamo far vedere le utenti e adesso così sono le 20 41 magari andiamo a vedere qualche indice che vedo che stanno un pochettino spingendo gli americani partiamo subito partiamo subito dall'analisi percentuale ovvero la giornata di oggi come vedi gli indici hanno una colonna di tipo verde sono tutti positivi vedi qui ci sono tutti gli indici e tutti indici sono positivi ovvero positivi ma ok inside perché vedi il colore verde chiaro gli unici indici a breakout sono l'olandese clicco e come vedi si trova a breakout dei massimi della giornata precedente addirittura questo mercato guarda sta facendo più 26 per cento guarda che trend riaccista ha sentito i livelli ma non ha trovato spunto diciamo così correttivo ha continuato la sua corsa anche se su quelli che sono i livelli più importanti come vedi 1 per cento 1 e mezzo di nuovo 1 ok quindi questo è l'unico strumento forte di oggi questo è il fuzzi come vedi anche il fuzzi segna un più 2 e 10 per cento e si trova sopra i massimi della giornata precedente ok ma fondamentalmente avendo tutti gli indici positivi oggi la migliore soluzione sugli indici almeno per gli operatori intra dei e non gli operatori di breve era quello di cercare diciamo così spunti a rialzo poi gli operatori di breve che in genere hanno target abbastanza piccoli 5 pip 10 pip e così via possono fare longo short in qualsiasi punto senza senza eccessivi problemi ma chi cercava un movimento direzionale per la giornata nella giornata di oggi avrebbe dovuto cercare long quindi invece attenzione perché anche le valute pardon le commodity soprattutto i metalli oggi hanno avuto una giornata di forte direzionalità soprattutto loro guardate più un 82 per cento in condizioni di breakout l'oro ha rotto i massimi della giornata precedente vedete e ce lo dice già il pulsantino di colore verde scuro ma che cosa succede all'oro su base mensile si trova in breakout su base trimestrale si trova breakout su base semestrale su base annuale questo mercato forte in questo momento vedete su base annuale più 13 per cento rispetto alla close precedente apriamo il grafico e vedete questa è la divisione annuale perché perché questo è un grafico settimanale e come vedete questo mercato è long ha fatto un più 15 per cento ok poi ha fatto una correzione si è portato sul 10 per cento ok adesso si porta sopra il 12 5 vedete questi livelli come sono anche dei riferimenti per capire dove e cosa il mercato sta facendo perché appunto in base a quello che dicevamo prima sono i rendimenti ad essere l'obiettivo di chi fa il mercato non le trend line le medie mobili gli oscillatori eccetera ma i rendimenti questa è una delle informazioni più importanti in assoluto quindi appunto oggi c'è questa strana anomalia perché perché in genere i metalli dovrebbero essere correlati inversamente a quello che è l'andamento diciamo così borsistico l'andamento degli indici però come vedete oggi i metalli soprattutto loro è abbastanza forte perché perché si addirittura ha trovato in breakout e dollaro forte nella giornata di oggi perché vedete euro dollaro e giù no non dollaro forte dollaro misto che perché contro il canadese perde lo 0 24 contro il franco per forma lo 0 34 e contro lo yen è lì in parità contro l'euro batte l'euro dello 0 37 per cento contro la sterlina legge leggermente in parità 0 18 australiano 0 65 quindi bolla un po un po di indecisione sul dollaro quindi questa è un'analisi principale ok poi ovviamente andiamo su quello che potrebbe essere il profilo special su cui andiamo ad affinare l'informazione quindi un conto alla tendenza generale e un conto poi i livelli di ingresso quelli in cui cerchiamo di identificare delle possibili opportunità questo è il profilo master trend euro dollaro grafico 30 minuti grafico a quattro ore e grafico daily ok come vedete la price action mensile e inside a livello mensile vedete tutte le percentuali negative rosse i colori delle candele perché l'analisi frattale una condizione importante vedete tutte rosse a parte la candela h1 candela mensile rossa candela settimanale rossa giornaliere eccetera eccetera vedete c'è pressione ribassista le medie questo indicatore qui rappresenta le medie cicliche vedete tutti orientate a ribasso e quindi o cerchiamo di cogliere l'opportunità provando a comprare i minimi ma in verità dopo il petrolio quali sono i minimi dove sono i minimi dopo aver tradato qualche giorno il petrolio inizia a dubitare di quelli che sono i minimi oppure decidiamo di seguire il mercato ovvio a questi prezzi euro dollaro potrebbe essere interessante perché perché lo andrei a pagare poco ma è bene diciamo così cercare l'operatività di breve per pochi punti o è bene seguire la corrente e cercare magari quella che è la voce di fondo un possibile euro dollaro in parità so vende anche che stile siano esatto esatto sotto vedete il livello di target numero 1 il target più probabile e ovviamente il target numero 2 in area 107 e 2 quindi finché il mercato si troverà al di sotto del primo target ok la mia idea di possibile continuazione a ribasso è plausibile se invece il mercato dovesse rimangiarsi questo livello e possibilmente andare ad invalidare la zona di trend short allora da qui in poi potrei chiudere la mia operazione e possibilmente cambiare idea ma in questo momento l'ipotesi di continuazione ribassista è senza dubbio l'ipotesi più plausibile se poi dovesse arrivare una news e parlare draghi e quant'altro allora lì signori non conosciamo il futuro ok però in questo momento come vedete il mercato sta parlando in modo molto chiaro ma soprattutto su tutto l'euro guardate euro ud di colore rosso euro cad euro chf euro gbp euro yen vedete oggi tutto l'euro è negativo non soltanto euro dollaro e come ho fatto ad intercettare questa informazione semplicemente guardando questa pulsantiera che ha un preciso compito ovvero lei si deve illuminare esattamente in questo modo perché perché sia verificata all'interno della valuta una condizione di questo tipo vedete com'è più semplice venire a conoscenza di quello che è il dato oggettivo poi ovvio tra il tradare e l'analizzare c'è fra il dire il fare c'è di mezzo al mare però capite bene che con gli strumenti giusti sicuramente vi troverete leggermente più in vantaggio perché perché avete diciamo così la forza del calcolo algoritmico che lavora per voi cercando di proporvi quelle che sono le condizioni di mercato bene fabio diciamo che se non c'è altro diamo la parola a costantino magari per terminare il nostro assolutamente sì e se cedo anche lo schermo ok anche lo schermo così grazie alex vedete il mio schermo e bene ho messo il sito di topfx così potete anche vedere il nostro sito qual è topfx.com barra pro barra e t qui avete la possibilità dunque di aprire un conto reale o demo potete vedere tutti gli strumenti finanziari che offriamo le nostre piattaforme e anche alcuni reviews che abbiamo su forex pisarmi e poi il vecchio calendario di webinar che offriamo che abbiamo praticamente quasi su base quotidiana dei webinari prima di concludere ci tenevo a parlare di mql suite di questa partnership siamo stati il primo broker a credere in questa iniziativa il primo broker partner di mql suite mi ricordo ancora quando fabio mi faceva vedere questi strumenti che era all'inizio i primi indicatori primi tools e io proveniendo dal settore della di link desk avendo esperienza di gestione di link desk avevo subito intervisto in questi strumenti e strumenti davvero interessanti utili anche ai broker utili anche broker per monitorare il mercato le esposizioni e degli strumenti ancor più utili per i trader per poter con una semplice occhiata rendersi conto della situazione dei mercati senza dover aprire tool esterni andare su siti esterni tutto all'interno della propria piattaforma senza dunque perdere il controllo della propria operatività oggi mql suite vanta tanti broker importanti come partner quindi davvero fiero di essere stato il primo noi abbiamo sia la partnership su mt4 per quanto riguarda la meta trader 4 quindi offriamo la mql suite su top fx mt4 e su c trader abbiamo deciso di avere l'esclusiva quindi siamo l'unico broker mondiale di c trader che ha la c trader suite ovvero le mql suite convertita in linguaggio c trader diamo una prova gratuita della mql suite eccetera oppure della c trader suite per 30 giorni a chi si regista a chi registra un conto reale senza deposito presso il nostro broker e se qualcuno vuole potete sfruttare questo corso questo corso gratuito per il quale c'è un requisito di capitale minimo ovviamente per questo corso perché parliamo di tradare in modo professionale con l'ausilio di questi strumenti imparare a sfruttarli al meglio al massimo per poter tradare dunque in un modo semplice ma efficace vi invito tutti dunque a sfruttare la prova gratuita di mql suite con top fx e di valutare questo corso che io reputo davvero importante abbiamo deciso di finanziare questo corso per tutti i nostri clienti di top fx bene bene costantino grazie grazie per questo contributo ringraziamo anche a fabio la rosa per le sue analisi e facciamo costantino ti faccio anche i complimenti a te complimenti a fabio anche perché comunque top fix anche come come struttura di scalper è mi sento di dire una delle top perché gli ordini come ben detto vengono inseriti a mercato e la velocità è rapidissima quindi io per esempio sono uno scalper mi piace fare tanti trade specie sui cinque minuti conseguenza costantino mi colgo l'occasione per farti dei complimenti per la struttura e anche a fabio e anche a fabio quindi saluto ciao fabio la c trader la c trader è davvero una scheggia a mettere gli ordini proprio molto veloce grazie alex grazie a tutti grazie costantino e ragazzi se siete interessati al corso quindi le 20 lezioni che si svolgeranno in tutto il mese di maggio quindi dal 4 maggio fino a fine fino a fine mese contattate pure costantino e poi vi metteremo in classe chi non può partecipare può rivedere comunque le registrazioni e niente vi aspettiamo numerosi grazie a tutti è una buona serata grazie saluto tutti gli utenti buona serata ciao